buongiorno a tutti bentornati sul mio canale in questo nuovo video vedremo altre domande di cultura generale per prepararci al concorso per 1858 posti inps joseph rasinger diviene papa con il nome di la risposta da dare è benedetto sedicesimo kam kant ka è il nome di la risposta da dare è una penisola del continente asiatico kim jong hun è stato candidato alle elezioni della suprema assemblea del popolo il parlamento non nord coreano con quale percentuale di voti è stato eletto nel distretto in cui si era candidato la risposta da dare è 100% l'inps è la risposta da dare istituto nazionale previdenza sociale l'olimpic è una linea aerea da risposta da dare è greca l'africa di petrarca la risposta da dare è un poema storico in esami latini che narra gli eventi della seconda guerra punica e che comprendiamo il flashback sulla precedente storia romana l'officina fu fondata bologna da leonetti roversi e pasolini cui si associarono nell'ultima fase la risposta da dare è romano scalia e fortini l'orlando furioso il cui tema suono le vicende del paladino orlanto è la risposta da dare è un poema cavalleresco l'11 aprile 2006 venne arrestato dopo oltre 40 anni di latitanza il boss mafioso la risposta da dare è bernardo provenzano l'11 luglio 2015 dopo 199 giorni torna a casa Samantha Cristoforetti dopo è stata da dare un viaggio aereo spaziale l'11 giugno di quale anno morì Enrico Berlinguer segretario del partito comunista italiano dal 1972 al 1984 a Padova la risposta da dare è 1984 l'11 novembre 1918 alla fine della prima guerra mondiale dove fu firmato dai delegati della Germania all'amistrizio con i rappresentanti dell'intesa la risposta da dare è Coppiegne l'11 settembre 2016 ricorre l'anniversario dell'attentato terroristico rigole torri gemelle in New York numero la risposta da dare è 15 l'8 ottobre 2015 si dimette da sindaco di Roma dopo una giornata di assedio politico la risposta da dare è Ignazio Marino la cappella degli Scrovegne la risposta da dare è la cappella che Enrico degli Scrovegne fece e Ignazio Marino a Padova e successivamente decorata da Giotto la cavalcata delle Valkyrie fa parte di un'opera composta la risposta da dare è Richard Wanger la dama con l'ernuellino è un ripinto di la risposta da dare è Leonardo da Vinci la guerra delle due rose fu un sanguinoso conflitto dinastico combattuto in la risposta da dare Inghilterra la High Bucket Challenge è stata una campagna internazionale di grande successo per sostenere la ricerca per la cura di quale malattia la risposta da dare sclerosi laterale amiotrofica la piazza rossa è una celebre piazza di la risposta da dare Mosca la riforma Germini ha riguardato la risposta da dare la scuola la simonia era la risposta da dare la vendita delle cariche ecclesiastiche con i relativi feudi al miglior offerente la divina commedia è un poema suddiviso la risposta da dare è in tre candiche inferno, purgatorio e paradiso la nuova via della seta è un'iniziativa strategica che ponde a migliorare i collegamenti e la cooperazione tra la Cina e l'Europa essa attraversa tutta l'Asia centrale e arriva dalla Cina fino alla Spagna l'iniziativa è stata annunciata la risposta da dare è dal presidente cinese Xi Jinping a settembre 2013 la vita nuova è un'antologia delle rime giovanili di tante dedicata la risposta da dare a Beatrice la banca centrale europea la risposta da dare è responsabile per la politica monetaria europea la bandiera a righe orizzontali bianca, blu e rossa appartiene alla risposta da dare alla Russia la bandiera europea simboleggia sia l'Unione Europea che l'unità e l'identità dell'Europa in generale la bandiera europea è costituita la risposta da dare da un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfonto blu la Basilicata confina con tre grandi regioni italiane in quali la risposta da dare è Puglia, Campania e Calabria la battaglia decisiva per l'esercito italiano combattuta fra l'ottobre e novembre del 1918 fu la risposta da dare la battaglia di Vittorio Veneto la battaglia di Vittorio Veneto dell'autunno 1918 la risposta da dare segnò la conclusione delle operazioni belliche sul fronte italiano nella prima guerra mondiale la poem e la fanciulla del West sono capolavori di la risposta da dare Giacomo Uccini la cosiddetta convenzione di Istanbul è la convenzione del Consiglio di Europa recentemente ratificata anche dal Parlamento italiano quale tema riguarda tale convenzione? la risposta da dare è prevenzione, lotta alla violenza contro la donna e la violenza domestica la Camera dei Diputati ha sede a risposta da dare Montecitorio la campagna istituzionale semplice come Peppe inonta sulle reti RAI nel circuito nazionale radiofonico e web dal 18 dicembre 2017 al 17 gennaio 2018 è dedicata la risposta da dare è alla riforma della pubblica amministrazione la campagna confina con la risposta da dare Lazio, Molise, Puglia e Basilicata la campagna, grande regione del sud Italia, confina con quattro regioni quali sono queste regioni? la risposta da dare Lazio, Molise, Puglia e Basilicata la campagna, la risposta da dare è la regione italiana più densamente popolata 427 abitanti su chilometro quadrato circa la popolazione è concentrata nella città di Napoli, nei suoi soborghi e nell'aria attorno al Vesuvio la capitale del Lussemburgo è Lussemburgo la capitale della Croazia è Zagabria la capitale della Svizzera è Berna la capitale della Turchia è Ankara la capitale dell'Uruguay è Montevideo la capitale legislativa del Sud Africa è Città del Capo la capitale della Germania, avvenuta nel Maggio del 1945 durante la Seconda Guerra Mondiale permise agli alleati di concentrare l'intero peso del loro potenziale bellico quando quale nazione? la risposta è Giappone la Cappella degli Scrovegni venne affrescata da la risposta è Giotto la carotide si trova la risposta è Nel Collo la carta dell'ONU stipulata durante la Conferenza di San Francisco del 28-26 giugno 1945 entrò in vigore a fine di ottobre dello stesso anno nel gennaio di quale anno? si tendero le prime sessioni di due organi fondamentali l'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza la risposta da dare è 1946 la catena montuosa della Sierra Nevada si trova in la risposta da dare è Spagna la cavia è la risposta da dare è un porcellino d'India la CE si trasformò in Unione Europea nel la risposta da dare è 1993 la chiesa di San Francesco d'Assisi è stata affrescata da la risposta da dare è Giotto la cicala è un insetto la risposta da dare è Mittero la cima più elevata della Pennini è la risposta da dare è il Gran Sasso la città di Chicago si trova in la risposta da dare in Linoise la città di Minsk è la capitale dell'Ucraina la città di New York è situata a circa la stessa latitudine di Napoli la città natale di Garibaldi è Nizza la civiltà azzeca si è sviluppata in Messico la commedia ciascuno a suo modo fu scritta da Luigi Pirandello la risposta da dare la commissione europea è la risposta da dare l'organo esecutivo dell'Unione Europea la conferenza di pace di Parigi dopo la prima guerra montiale quale trattato impose alla Germania la risposta da dare trattato di Versailles il video di oggi termina qua per vedere altri video per continuare la preparazione della prova preselettiva del concorso IMPS iscriviti al canale e attivate la campanella e attivate la campanella